Ronaldo! Questo è un gioco collettivo, nessuno nel mondo, solo, può fare la differenza. Così non facciamo un cazzo! Per essere capitano e essere padre ci sono delle similitudini. Il primo ricordo che ho di Gigi non è a Parma con mio padre, ma quando ha alzato la Coppa del Mondo. Ad Andrea mi lega un rapporto di fratellanza. Basta di partire, ci vogliono i coglioni, eh! Spesso mangiamo qua per parlare un po' più intimi. Porata! Per me, se c'è la mia famiglia, posso andare anche alla luna, poi c'è la Juve che sta sopra tutto il resto. Tu devi stare ogni giorno a combattere tutto, a dimostrare che ci sei e devi far vedere che non volerò mai.